1650 traduttori commercialisti e ragionieri salernitani chiamate alle urne oggi e domani per le elezioni del nuovo presidente dopo che l'uscente Adriano Barbarisi è stato candidato al Consiglio Nazionale. Due giorni per rinnovare anche il Consiglio dell'Ordine scegliendo tra le due liste in gara. Da un lato Oscar De Francisces con la lista Innovazione e Tradizione che come anticipa il motto scelto punta sulla continuità con il passato ma anche ad un miglioramento continuo tra i candidati cinque aspiranti consiglieri uscenti. È un'occasione ovviamente anche di incontro tra tutti i colleghi si vota oggi dall'apertura del seggio che penso che sarà da qui a qualche minuto alle 18 di stasera e poi domani dalle 9, 9.30 alle 16 e poi si inizierà lo spoglio. Perché è importante una cosa? È un'occasione comunque perché si tirano poi gli indirizzi per i prossimi 4 anni. I programmi sono a conoscenza di tutti, spero che ognuno deciderà in funzione degli stessi e quindi è un'occasione per avere un indirizzo. È giusto che ogni certo periodo di tempo si ridisegni in qualche modo la strategia che si va ad attuare per il periodo successivo e quindi questa è l'occasione un attimino per ridisegnarla o in una logica di continuità, qual è quella un po' più nostra, in una logica del tutto diversa come viene sostenuto dall'altra lista. Dall'altro lato Rosario Camaggio con impegno e passione, lista che mette insieme giovani e meno giovani nell'ottica però del cambiamento e della discontinuità. Presidarsi al seggio è un diritto dovere di tutti gli elettori. Credo che nei momenti in cui c'è una competizione democratica bisognerebbe esercitare in maniera corretta il diritto di voto e soprattutto cercare quando ci si lamenta per qualcosa che non funziona, cercare di contribuire ed effettuare un cambiamento. Un cambiamento che non deve essere fine se stesso, deve essere supportato dalla conoscenza di una squadra come quella che abbiamo costituito noi della lista impegni e passione dove c'è un mix di professionalità, di giovani e meno giovani, di persone che comunque ritengono di mettersi al servizio dell'istituzione perché non è possibile che sia l'istituzione al servizio di qualcuno. Con l'unificazione degli albi avvenuto nel 2008, alle elezioni è prevista la partecipazione dei ragionieri con due proprie liste di appoggio a quelle dei dottori commercialisti.